Buongiorno, benvenuti, questa è la segna stampa di oggi da Sorrento, 17 luglio. Vediamo quali sono i temi fondamentali sulla giornata, intanto il tema fondamentale forse è questo scontro che sta in corso tra Europa e Italia, o meglio tra alcuni paesi dell'Europa e d'Italia, riguardo al Recovery Fund. Vi ricordo che sabato e domenica ci sarà il consiglio per cui si dovranno mettere d'accordo per capire come fare il Recovery Fund, che sono 750 miliardi, nelle settimane scorse abbiamo capito che potevano diventare di meno, la cosa più interessante oggi da poi nel Corriere della Sera, cioè oggi potrebbe esserci l'ipotesi addirittura di un veto da parte del primo ministro olandese Rutte. Apro una parentesi e la chiudo, è esattamente quello che Conte aveva incontrato la settimana scorsa e che sembra fosse andato benissimo l'incontro secondo il 90% dei giornali, uno invece iniziava a dire beh l'Italia deve rinunciare a quota 100, questo era l'unico piccolo orientamento. Allora fino a quando noi crediamo alle cazzate di Casalino i nostri giornali saranno completamente inaffidabili, cioè fino a ieri abbiamo detto che l'incontro italiano con Rutte era andato bene, poi ci accorgiamo oggi sui giornali che in realtà ci vuole addirittura il veto di Rutte all'accordo sul Recovery Fund. Complimenti per la stampa e per i ritorscenisti italiani che hanno colto esattamente il senso di quello che era arrivato in Europa, veramente un bellissimo scoop quello dei giornali italiani. Oggi Parsi dice sul messaggero che il fatto che ci sia una presidenza del Consiglio Europeo e della Commissione Europea guida tedesca che vuole fare questo Recovery Fund è una di quelle circostanze che non si ripetono astrali che non si ripetono mai nella storia e che dovrebbe forse aiutarci, fidatevi, il giornalista che dice fidatevi un po' come mia figlia quando dice fidati papà, insomma io la trovo una cosa incredibile ma questo lasciamolo perdere però il tema del fatto che ci sia questa coincidenza tra l'uno e l'altro è fondamentale. Nel frattempo il Corriere della Sera intervista Gentiloni, diciamo che tutta la prima parte viene dedicata alla questione autostrade di cui parleremo tra poco e però la cosa che più mi è divertito di Gentiloni e scusatemi di Gualtieri del Ministro dell'Economia è che dice che i dati economici recenti sono incoraggianti. Allora io tenderei a fidarmi del Ministro quando parla però tenderei più a fidarmi di quello che sento vicino a me e mi sembra che i dati economici delle persone normali sono tutt'altro che incoraggianti in questo momento posto che poi la produzione industriale è rimbalzata ma visto che era crollata nei mesi precedenti posto che tutti quanti prevedono un PIL in decrescita dell'11% ma se questo è incoraggiante per il Ministro dell'Economia non è incoraggiante capire la burocrazia che ci sta sommergendo saranno 155 i decreti attuativi per il decreto rilancio dei 55 miliardi fonte sole 24 ore oggi i giornali parlano ad esempio del bonus 110% io ve l'ho già detto è tutto quello che volete, una bella idea eccetera non verrà applicato da nessuno del forum di questo bonus 110% se lo pezzicheranno se no qualche casa popolare gestita dai comuni locali per il resto è totalmente inattuabile dicevo che Gualtieri nella sua prima parte dell'intervista parlava di autostrade e dice che restiamo un'economia di mercato ringraziamo il Ministro Gualtieri che ci conforta che l'Italia è un'economia di mercato peraltro difficilmente potrebbe non esserlo ma comunque sia visto che siamo così contenti poi abbiamo Divico sempre sul stesso giornale che ci parla invece avanza lo Stato padrone e d'altronde abbiamo Grillo che dice cosa deve succedere su Tim Grillo dice cosa deve succedere su Tim abbiamo autostrade che vengono nazionalizzate abbiamo società come Ilva che sono di fatto e verranno nazionalizzate abbiamo l'Italia che viene riempita di 3 miliardi di euro abbiamo Eni, Finmeccanica e Enel che per definizione hanno nomine decise dalla politica secondo voi se questo non è uno Stato non di mercato io vorrei soltanto che voi ricordassi la stessa cosa Arcuri Arcuri per 20 anni è stato all'interno di Invitaria noi immaginiamo che abbiamo uno Stato che deciderà di mettere tanti arcuri per ora ci è andata bene all'interno della guida di questi paesi molto interessante l'intervista di Cottarelli che dice sul riformista contro il Benetton un processo di piazza perché anche questa storia del Benetton è straordinaria perché tutto sommato ci possono stare sulle balle come stanno a me fino alla morte però insomma converrebbe che qualcuno mi spiegasse perché un azionista di una società quotata deve essere colpevole di una cosa per cui la stessa società quotata non è ancora stata considerata colpevole cioè va bene tutto ma questo è veramente il Benettonio di Maduro Bekis dice una cosa controintuitiva oggi sul tempo perché rileva come già nel 2019 per 262 milioni di autostrade perdessero e quest'anno, visto il lockdown aggiungo io, rischieranno di perdere un miliardo tant'è che nella trattativa, diciamo, quella che non è apparsa sui giornali molta della parte della trattativa sulle tariffe e sulla trattativa ASPI tra autostrade e ministeri c'era la questione del fermo Covid e quanto fosse pesata per le autostrade Zatterini, invece, molto interessante scusatemi no, su Bekis che dice perdite importanti dell'anno precedente e di quest'anno e quindi da una dimensione diversa dell'uscita del Benetton dall'autostrade è interessante MF perché MF dice niente sconti al casello e niente sconti al casello nonostante ci siano nuove regolamentazioni nuove regole tarifarie che prevedono qualche sconto fa pensare che la nuova ASPI sarà una bella ASPI gestita senza quegli sconti tanto contrabbandati dalla vulgata grillin di Maiesca e di Battistesca nel frattempo Zatterini è stupendo oggi sulla stampa nota un'altra cosa cioè questi fenomeni ci hanno raccontato che ci stanno vendendo questa roba come una public company ma di public c'è molto poco nel senso che poi alla fine comanderà il CDP i nomine farà il CDP e i privati conteranno ben poco by the way, apro una parentesi chiuso una parentesi sul tema immigrazione perché oggi il titolo più forte lo fa il giornale immigrati infetti vi ricordate di Asorin che aveva preso l'appalto alla regione Lombardia li avevano contestato il tardi l'ha abolito beh oggi l'ha ripreso l'ha rivinto l'appalto beh insomma questa è la storia italiana in cui noi pensiamo di Pantera andare avanti in fianco in emergenza c'è una grande azienda italiana che trova il test lo dà alla regione Lombardia fanno l'accordo poi dopo godono i giornali perché il tardi glielo boccia e poi lo riprende straordinario immigrati infetti in fuga per l'Italia il titolo del giornale perché i cento scafisti di Pozzallo scusatemi cento sbarcati a Pozzallo si sono sparsi per l'Italia ci sono due poli oggi dei giornali quelli del giornale che è fattuale cioè come possiamo dire gli immigrati che arrivano in Italia e poi scappano e poi c'è il polo diciamo più politico Saviano oggi su Repubblica che prende quella foto del morto libico sul gommone e ce lo fa e ce lo sbatte in faccia dicendo ecco avete visto solo che in questo momento non c'è Salvini purtroppo per loro c'è la Morgese la loro amata la Morgese quindi quella foto opportunity lo dico cinicamente perché la sinistra utilizza i morti cinicamente in questo caso è molto meno facilmente utilizzabile come spiega Gervasoni oggi sul giornale le foto ad orologeria anzi non so chi lo dice ma se noi facessimo quello che questi pazzi di Repubblica vogliono e c'è una rottura dei rapporti con la Libia ne avremmo molti di più purtroppo di morti in mare come quella foto ha testimoniato tre su dieci i contagiati il quotidiano nazionale certifica vengono dall'estero per me voglio dire che l'emergenza Covid oggi è sotto controllo evidentemente non mi spavento più di tanto mi spavento più di tanto di avere centinaia di milioni di persone in Italia che non hanno lavoro cioè italiani stranieri accolti negli anni precedenti che devono vedere oltre a queste altre persone che devono avere welfare e posti di lavoro una roba da matti oggi uno dovrebbe dire ragazzi in Italia per favore non venite non per il Covid ma perché purtroppo oggi non c'è lavoro per tutti vi volete ricongiungere volete far bambini fate quello che vi pare però qua in Italia lavoro oggi in questa situazione di bomba sociale io starei un pochino attento ad accogliere centinaia di migliaia di persone con un welfare che già oggi sta scoppiando ma la sinistra di questo non si occupa fantastica la notizia che i giornali non danno se non in piccolissima luce ed è quella che mi sta riguardando a me vedete questi raggi del sole secondo una ricerca italiana questi raggi del sole ucciderebbero il Covid io non so se sia vera o sia sbagliata ma se la ricerca italiana come talvolta è successo riguardava il Covid uccide più della malaria non lo so tutte le prime pagine dei giornali invece quando c'è una semiscoperta così semplice che ci porterebbe anche a capire per quale motivo improvvisamente questo Covid non c'è più come prima qualcuno presupponeva cioè che con il sole non ci sarebbe stato beh insomma si mette in secondo piano tamponi per il rientro dall'estero degli stranieri questa è invece l'ipotesi di cui parla il movimento il messaggero beh stupendo oggi Brunello Cucinelli perché Brunello Cucinelli è uno che predica bene e razzola male straordinaria azienda fantastica vende i suoi cashmeline a 1000 euro nessuno di noi se li può permettere però è San Francesco in quando io vedo questi San Francesco tipo Cucinelli come si chiama quell'altro quello là come si chiama dai ragazzi quello là di Italy va beh insomma l'avete capito quando vedo questi San Francesco io mi vento a ridere possiamo ripartire regalando la bellezza stupendo perfetto il foglio voglio dire che qualche volta riesce a essere anche peggio mentre ieri l'ho citato e l'ho elogiato per il fantastico pezzo sull'autostrade quando io leggo che il governo si trova perfino con un progetto beh vabbè allora veramente si può scrivere di tutto cioè se il foglio mi dice che questo governo è un progetto io veramente tra l'altro io l'ho visto fino alla terza cort'ultima riga del pezzo di Cerasa allora mi chiedo ragazzi ma voi che cosa vi siete fumati lo dico a Claudio che so bene che non si fuma manco le Aicos e pensa un po' se si fuma qualcosa di più Di Maio contro Sanza mentre Sanza oggi giornalista del fatto dice come quando da ragazzino mi buttavo da quella scogliera in maniera lirica ci racconta quel momento in cui si sta per buttare dalla scogliera e in quel momento non può far più nulla ormai l'ha fatto il passo beh insomma quello di candidarsi alla guida della Liguria beh dall'altra parte leggo sui giornali che Di Maio è furibondo così come Grillo perché dice ci ha sempre attaccato beh insomma questa storia di Movimento 5 Stelle è fatto che un incrocio di amorosi sensi che alla fine si dispiega in candidature in nomine all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Eni in prestiti io ci godo sempre come un riccio perché loro sono i più puli di tutti da Sorrento vi do un grandissimo abbraccio anzi forse non faccio vedere Sorrento guardate che bella vedete eccoci qua un abbraccio a tutti quanti voi noi ci vediamo domani ciao